Ciao a tutti per la recensione, vi parlo oggi del Topolino 3438, un fumetto cui possiedo la versione digitale perché da abbonato ancora non ho ricevuto la copia cartacea, è un problema delle poste, direi che ogni tanto capita nulla di preoccupante, quando poi arriverà ve lo dirò ma chissà quanto dovrò aspettare comunque la copertina è di Freccero, il colore di Cagol, una cover che richiama palesemente una storia presente di Zironi che vedremo appunto commentare in questo fumetto, molto bella, molto horror, quasi inquietante bellissimi colori, Cagol è ormai una garanzia in ogni punto di vista Un papero, la sua storia, la ballata di John D. Rockerdach dalla prossima settimana sul Topolino una storia che ho molto hype, molto interesse, visto che troviamo Nucci e Cavazzano due autori che sia per esperienza ma anche per creatività ci daranno sicuramente una grande storia Horrific Land a me non interessa, già lo recensì un anno fa sul canale in francese e mi va bene così lo ritengo a parità di prezzo migliore di quello italiano Alex Bertani si auto elogia, si autopromoziona dicendo che il modo in cui ha condotto praticamente a livello di iniziative il Topolino gli è piaciuto, tanto che i numeri sono dalla sua onestamente ecco vorrei essere un attimino critico, non so in base a che dati lui dica questo perché l'estate appena passata, sì, le eventi del Topolino sicuramente sono lievemente aumentate perché in estate aumentano sempre i lettori, però boh, tutto questo entusiasmo non so da dove derivi ecco io potrei dirlo per certi motivi ma lui non lo spiega troppo bene, però vabbè rimarrà un nostro dubbio, un mio forse, più che nostro Le storie a fumetti sono Giramondo, appunto di Pagni Zironi, di cui c'è la cover PK che continua, una storiella molto breve di qualche pagina di Faccini, Paperino e Carillon Proboscidato e Miraggio Cosmico, che è il terzo episodio della ciurma del sole nero e dopo una piccola anteprima arriviamo alla storia la mia preferita di quest'albo, Panini, Zironi, rispettivamente soggetto sceneggiature e disegni insomma hanno fatto tutte e due un gran lavoro di squadra, di team una storia che, se devo essere un pochino critico, diciamo in negativo, ricorda molto le top stories e voi mi direte, che c'è di male? niente, se non fosse che è un po' ripetitiva come cliché narrativo mi ha ricordato quello e non è un bene, onestamente la storia però mi è piaciuta molto, ma veramente tanta a livello grafico non mi dilungherò più di tanto basta farvi vedere queste tavole e capirete benissimo qual è il livello di Zironi anzi no, Zironi o Panini, mi viene un dubbio allucinante di Zironi, quale sia il livello grafico, di stile, di disegno che è molto molto alto poi, mannaggia a me, non ho la coppia fisica con me quindi non posso neanche gustarmeli al meglio però già dal digitale lo posso intuire la storia, appunto, riprende il cliché narrativo del top stories perché è il topolino che racconta da un suo diario che scrisse un'avventura avvenuta tempo fa, non si sa bene quando forse una serie di anni fa addirittura in cui incontra Ingrid, una ragazzina norvegese una ragazzina conosciuta durante una spedizione di archeologia in Norvegia che racconta a sua volta a Topolino un'avventura che lei ebbe modo di vivere in prima persona in un bosco, lo stesso bosco che poi Topolino si ritroverà dentro e la storia è molto avveniristica, molto fiabesca, molto magica non voglio dirvi altro perché è davvero molto bella a tratti anche misteriosa mi è piaciuta sia il disegno, ripeto, che la fianeggiatura tra l'altro Giramondo è una serie di storie che non per forza devi leggere la parte precedente ma le puoi leggere in maniera staccata quindi anche per un lettore occasionale o per chi come me ha grande fatica a ricordare per memoria corta, ahimè, le storie precedenti non ha avuto problemi, ecco, non ho avuto problemi a leggerla Topolino incontrerà anche un certo Olaf mi fermo qua perché sarà fondamentale sarà un personaggio importante per ricordare a Topolino questa grande avventura che ha un finale, comunque anch'esso, piuttosto fiabesco con una piccola morale prossima storia dopo questo editoriale sulle stagioni e sui boschi devo dire azzeccato in base alla storia precedente si va avanti con PK, zona franca, secondo episodio Siste, Pastrovicchio, rispettivamente la scrittura e il disegno una storia che io ho fatto fatica a capire perché non conosco il mondo di PK ne sono interessato prima o poi vorrò ampliare questa mia grande lacuna ma per me PK rimane un personaggio Disney assolutamente perché il tratto, i modi forse sono un po' anti-Disney però a mio parere rimangono nella sfera nel mondo ecco, non è che io disdegno PK come personaggio come contesti però ne rimango interessato ma boh, prima o poi non ho tutta questa grande euforia di mettermi lì e leggere 100-120 storie legate a PK con una continuità perché ecco, poi bisogna anche comprenderle a fondo e dicevo l'ho compresa però poco perché si fa riferimento a una serie di personaggi Axel Alfa, i John Connery che a quanto pare a sentire qualche recensione altrui anche su YouTube fanno parte di storie passate e io come faccio a ricordarmi se non l'ho mai lette mi aspettavo per una storia del 25esimo anniversario che potesse di poter leggere una storia che davvero potesse includere tutti i lettori quindi io lettore occasionale di PK o probabilmente neofita o il lettore che da 25 anni legge ogni singola storia e ricorda tutto insomma riuscire a collimare entrambi i lettori entrambe le categorie di lettori ciò non penso sia accaduto la storia graficamente mi è piaciuta molto perché più che dialoghi mi sono fermato sui disegni c'è ovviamente riferimento a PK Robot eccolo qui che effettivamente entra in azione però di fatto non l'ho capita neanche tanto ho provato a capirla è l'unica storia che l'ho letta una volta poi mi sono detto ok non ho capito niente mi sono rimesso a rileggerla piano piano ho speso 10-15 minuti per una rilettura eppure ho faticato a comprendere quindi a voi i commenti non è probabilmente quella storia che mi aspettavo tra l'altro anche in termini di scorrevolezza l'ho trovata un pochino pesante forse troppi dialoghi forse la troppazione comunque c'è la parola fine lì in basso vedremo il PK Robot secondo me sarà un gadget ecco in tutti i sensi un macchinario che verrà utilizzato anche nelle prossime storie o prima o poi verrà rivisto ecco sicuramente andiamo avanti con Miaocrona Ghefeline Toiletta forzata di faccini in toto una storia riempitiva a cui Malachia o Malachia io ancora non ho capito dove metterla a cento comunque il gatto di Paperino immagina quello che potrebbe essere la sua toilettatura che a vedere la velocità sembrerebbe una cosa molto pesante molto anziante paranoica invece poi Paperino porta dentro di sé in casa una semplice cuccia alla fine nulla di che la storia ne ho vissi di migliori il disegno è suo di faccini ecco è un po' come dire quello della zica sono due disegni molto originali molto disney molto tondeggianti però la storiella ecco l'ho letta penso in 20 secondi di certo non fa questo il prezzo dell'albo Paperino e il carione proboscidato Rudy Salvagnini e Blasco Pisapia Salvagnini che torna alla scendiatura del Topolino io non so se è una storia vecchia di archivio o recente perché avevo capito che mi era uscito un po' dal mondo degli autori disney invece a mio piacere torna perché un grandissimo autore delle storie di Pippo e tanto altro la storia però è parecchio pesante sono un po' critico questa settimana perché Diego Paperone incarica Paperino ovviamente senza che lui diede il consenso totale di dover andare in aeroporto e accompagnare la signora Chefalova Galina Chefalova già al nome boh non è che mi abbia veramente ispirato una cantante lirica che si ritrova a soggiornare a Paperopoli che ha contatti con lo zio e quindi chiede a Paperino di aiutarla solo che io mi aspettavo che Galina Chefalova avesse un ruolo di cantante nella storia invece no il suo ruolo il suo compito il suo obiettivo è quello di recuperare un carillon che vediamo qua in disegno che una volta aperto raffigura due elefanti danzanti anzi due elefantine danzanti e quello che accade ha dell'incredibile solo che è talmente incredibile un gioco di parole che mi è risultato un po' pesante un po' ridondante Paperino dovrà cercare quel carillon che Galina vuole solo che nel momento in cui lo trova che ovviamente lo va a pagare da un rivenditore abusivo che è a Genore sarà Paperoga a batterlo sul tempo poi però Galina dice ora ne ho due che me ne faccio di due quest'altro non mi serve più Paperino vada a rivendere dunque lo rivende dopo di che cosa accade Galina ci ripensa e dice però quasi quasi la coppia non mi dispiacerebbe e quindi Paperino torna da Genore ci rimette altrettanti soldi e riporterà a Galina l'ennesimo carillon insomma è solo una gran perdita economica e anche di fatica per Paperino la storia detta così può sembrare simpatica di fatto lo è però un po' pesante ecco l'ho trovata un pochino ridondante e forse perché mi aspettavo cosa di diverso da introduzione comunque la promuovo non è che sto dicendo che non mi sia piaciuta La Ciuma del Sole Nero terzo episodio Gervasio e Canfaila scrittura e disegno una storia che al disegno ormai si conferma secondo me è perfetta perché leggendola ormai al terzo episodio posso dire che il tratto è perfetto per la storia narrata non so se solamente io ho questa idea però mi piace davvero tanto la storia mi è sembrata molto autoconclusiva e non vorrei o meglio non è che non vorrei ma non mi aspettavo si seguisse questo stile di narrazione mi aspettavo che potesse essere una storia che a fine episodio si rimanesse un po' di suspense rimanesse un qualcosa da dover risolvere costantemente invece no anche questa storia così come la seconda si riva in un altro pianeta in questo pianeta che apparentemente sembra perfetto visto che ci si riesce anche a comunicare infatti questi marziani in particolare Tebius mi pare si chiami li riconosce tradurcendo con un suo traduttore universale dicendo che se volete tornare nella terra da noi soggiornate in qualche modo facciamo non vi dico altro perché poi la storia ha un suo risvolto ha un colpo di scena abbastanza evidente però ripeto la storia è autoconclusiva per chi l'ha letta mi capisce non so dove voglio andare a parlare la narrazione sicuramente prima o poi si tornerà alla terra ovviamente però ricordiamo che ci sono una serie di intrighi interni che devono essere risolti in primis Minni ha dei sospetti su Topolino non si sta bene per quale motivo e non solo Minni ma anche i chiamiamoli personaggi antropomorfi quindi non Orazio Pippo Gancio ma ora non mi ricordo come si chiamano gli ufficiali insomma gli ufficiali hanno qualche sospetto su Topolino su questa spedizione quindi vedremo dove si andrà a parare sicuramente è una storia che solo per il disegno meriterebbe un domani un grande formato ed è probabile che andrà a finire così è un Topolino extra io ce lo vedrei poi bisogna vedere quante parti possiede e se il finale meriterà alla fine anche se io non lo prenderò a priori perché non mi interessa quel tipo di formato e qua finisce l'albo per lo meno con le storie Pickup e Paperinique che sono protagonisti dei disegni dei bambini questa settimana e poi troviamo un'anteprima come spesso accade a intervista a Nucci Cavazzano della storia che andremo a leggere a partire la settimana prossima col primo episodio quindi sarà episodica una storia che va a percorrere secondo Nucci da quello che ho capito non solo la sua fama economica ma anche le ambizioni le paure gli slanci personali e la fatica di questo personaggio che si è evoluto nel tempo ricordiamo che Carl Barks lo presentò tantissutto biondo che poi questa chioma bionda l'ha persa subito in Italia e poi ricordo che Barks disse creo Rockerdak solamente per questa storia senza che abbia un seguito invece risulta essere un protagonista comprimario nel mondo dei paperi la copertina vediamo qua qualche schizzo bozzetto che poi vedremo è proprio di Cavazzano del prossimo numero ovviamente abbiamo anche la parola a il buon Giorgio in settimana uscirà di Paperone grande classico pick up a giant e meccolo di Pippo sono contento di non sborsare nulla e di tenermi per settimana successiva ecco qua ancora meglio la copertina colorata una copertina che boh forse devo vederla un po' dal vivo perché così non è che non mi piace ma mi sembra già vista comunque che anticipa il primo episodio poi Giovani Marmotte in maniera un po' inaspettata non c'era nessun teaser in una serie a due episodi vedremo comunque che inizia e finisce nell'albo in teoria quando è così dovrebbe essere dovrebbe essere questa il mood Pippo Blog & Taste Calisota social media e Topolino e l'ingombrante sciopero vedremo cosa accadrà e se mi soddisferà un fumetto che se devo dare un voto sarà un pochino basso direi 7 non di più vabbè la copertina non la conto perché mi piace sempre non è quello qualcosa che aumenta o peggiora il voto diciamo le storie la prima io gli do anche voto 9 forse non 10 perché ricorda un po' troppo le top stories l'ultima gli do voto 8 posso dare la storia su pk io devo dare voto 5 6 perché non è quello che mi aspettavo lo so che è una grande lacuna quella di non conoscere una di pk però secondo me il topolino deve essere adatto ad ogni età e ad ogni lettore deve essere adatto al bambino di 10 anni che una volta prende un topo al ragazzo di 23 come me che non conosce uno dei pk a anche colui che in realtà pk ne sa dall'inizio alla fine a memoria e te lo sa anche ripetere come una filastrocca il fatto che poi pk sia così scostante nel topo non è una cosa positiva ecco io preferirei che lo vediamo un pochino più costantemente invece che vederlo a sprazzi secondo me preferirei cioè o costantemente o niente a mio parere e poi Paperino che arriva un po' riusci dato una storia da 6 6 e mezzo nulla di più quindi io voto tale darei 7 un fumetto che quindi promuovo ma ecco col voto 7 quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo settimana prossima col prossimo topolino che sia digitale o cartaceo chi vi verrà vedrà ciao ragazzi alla prossima ciao ciao